Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Adesso creiamo un nuovo mondo. Prima mi prendo la cassa bonus. Nome del mio mondo. Nome del mondo. Lo chiameremo... Francas. Sopravvivenza. Creare un mondo. Microfile. Si sta facendo il mondo, raga. Ho capito di quella che mi ha successo raga perché a me, quando credo in un nuovo mondo, sono Minecraft. Io ho giocato un po' a Minecraft per capire come si giocava. E' strano. 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 che abbiamo iniziato bella roba raga un piccone di legno due pelle mele una carota un pesce non 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 il a 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 raga cosa andiamoci a 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 il nome di mio padre però è il nome che darò a me per i video sarà marco 23 non ho potuto cambiare il nome fra il tempo che io stavo creando il mondo così lo farò aspettarci quando finirò il video comunque ok 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 per me è un caso guadagnoso sopra ecco 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 Raga 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 Che fatto una stupida di niente Poi... Cosa... ... ... ... ... ... ... ... ... a ver che è raga raga perché che è consumito tutto ai ok a 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